Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. Quest'oggi si incontra il comprensorio Schiare a San Pellegrino con il direttore tecnico Mirko Tancon. Buongiorno, ciao Mirko e benvenuto ai nostri studi. Buongiorno Claudio, grazie di avermi ospitato qui e un saluto ai telespettatori. Allora, Schiare a San Pellegrino, a cavallo fra le due province di Trento e Belluno, nelle scorse settimane avete già aperto alcuni impianti sul passo San Pellegrino e per questo fine settimana invece aprite quelli nel versante di Falcade. Ci fa un po' il quadro della situazione dell'apertura degli impianti di Ritalitan. Sì, esattamente, nelle settimane scorse abbiamo aperto l'area del San Pellegrino con la seggiovia Costa Bella e la funivia del Col Margherita, mentre in questo fine settimana aprirà la zona di Falcade, quindi a completamento dell'apertura della San Pellegrino Summer Time, come la chiamiamo ultimamente, aprirà quindi la cabinovia che da Falcade porta alle buse e la seggiovia che dalle buse porta alla Resei. Ecco, quindi questi due impianti aperti, in più quelli del Col Margherita e del Costa Bella, quindi per un'estate all'insegna del trekking e della bicicletta e anche dei motivi culturali e di svago legati appunto a queste zone da schiera San Pellegrino. Sì, assolutamente, le offerte sono multiple appunto, come hai detto. Partiamo dai percorsi trekking che si possono sviluppare nella zona sia del San Pellegrino che di Falcade, parlo per esempio per la seggiovia Costa Bella con poi il percorso verso il Passo delle Selle oppure la ferrata Bepi Zacc che verrà aperta un po' in ritardo a causa quantitativo di neve ancora importante in quota, comunque a breve aprirà anche quella. Comunque le classiche passeggiate da Passo Valles per andare verso la Resei, lago Cavia, percorsi ormai noti e sempre molto apprezzati, comunque la discesa dalle buse verso Falcade, sono sempre percorsi sempre molto apprezzati. Hai detto bene anche il bike, che comunque attraverso la cabinovia e la seggiovia sono comunque impianti attrezzati per il trasporto biciclette, come la funivia col Margherita e poi si possono appunto percorrere, fare percorsi in discesa o con salite limitate attraverso tutta quella che è la schiare a San Pellegrino, muovendosi tranquillamente con la bicicletta. Vanno sempre più di moda le bici elettriche, quindi il movimento è facilitato sia dall'elettrico sia dalle performance di queste biciclette che comunque per aspetti tecnici che ormai sono dotate riescono a rendere i percorsi un po' più facili. C'è sempre il fatto della convivenza tra camminatori e ciclisti, sulle strade a sesentieri spesso non è... Certo, la convivenza ormai è una cosa assodata, stiamo lavorando per il futuro per creare dei percorsi di biciclette separati dai pedoni in modo che comunque sia il turista che fa trekking che il cicloturista possa godere del panorama, della tranquillità però in sicurezza, perché comprendiamo che soprattutto per il pedone vedere il ciclista passarsi vicino magari non sempre può essere una tranquillità. Quindi stiamo lavorando sicuramente nei prossimi anni per dare questo servizio che ritengo molto importante e sarà comunque apprezzato da tutti i turisti e anche dai valigiani. Certo, quindi abbiamo parlato di trekking, bicicletta, ma i punti di interesse. Allora partiamo dal Bosco degli Artisti, rinnovato in questa stagione, spiegaci un po' cosa offre. Sì, il Bosco degli Artisti che intanto ricordo è situato alle Buse, quindi a 1800 metri di quota, quindi raggiungibile con la cabinovia Falcade e le Buse. Proprio nei pressi della zona di sbarco della cabinovia c'è un bellissimo Bosco di Larici, pianeggiante, dove negli anni passati abbiamo realizzato in collaborazione anche con la scuola sci di Falcade e i nostri dipendenti un breve percorso di circa un chilometro all'interno di questo Bosco, dove nel tempo gli artisti locali, ma non solo, hanno portato le loro opere, di svariata tipologia, quindi è stata data libertà agli artisti, che sono stati inseriti in questo Bosco e rimangono lì tutto l'anno. Hanno degli etichetti identificativi, hanno chiaramente dei loro taloncini, dei cartelli che descrivono l'opera, il titolo dell'opera, l'autore, quindi le famiglie possono comunque fare questa camminata molto semplice per tutti e visionare queste opere e all'interno di questo Bosco gli artisti, abbiamo anche un artista diciamo locale, ovvero le formiche, la formica Ruffa, che comunque è presente all'interno del Bosco con i suoi formicai, che abbiamo detto anche questi sono opere d'arte, perché io consiglio di farsi un giretto all'interno di questo Bosco e vedere anche le formiche al lavoro, quindi opere degli artisti e formiche. Abbiamo inoltre aggiunto per un po' incuriosire anche le famiglie e dare un po' di stimolo anche ai bambini, un libricino opuscolo, chiamiamolo interattivo, dove i bambini percorrendo questa stradina e leggendo potranno interfacciarsi anche con le opere e le formiche, quindi è tutto da scoprire. Inoltre, prima diciamo del Bosco degli artisti, dove abbiamo un bellissimo prato, abbiamo attrezzato da quest'anno un parco giochi, con giochi in legno di varie tipologie, in modo comunque da dare un'opportunità alle famiglie, dare un motivo in più per salire in quota, stare in relax, in tranquillità, non tanto dal traffico, nel silenzio, rilassati al sole e far giocare i bambini però in massima sicurezza. Anche perché alle buse poi è un ampio spazio, c'è la Malga, c'è Gigiopico, insomma tante opportunità. Andiamo invece più in alto sul Col Margherita, c'è un parco geologico? C'è un parco geologico ormai presente da ormai otto anni, è un parco geologico proprio sul cucuzzolo del Col Margherita, dove diciamo anche lì le famiglie, i bambini giocando possono scoprire un po' quella che è stata la genesi delle Dolomiti, è un breve percorso anche lì, chiaramente ci troviamo a 2500 metri di quota, quindi terreno diventa ormai roccioso, è un'altra tipologia, un minimo di attrezzatura, insomma, non andiamo con le scarpe da ginnastica. Ecco, questo è sempre opportuno, in alta montagna, in montagna in genere ci si va adeguatamente equipaggiati. Esatto, è un percorso sviluppato in collaborazione col Muse, dove appunto i bambini, ma comunque anche gli adulti, possono scoprire come le Dolomiti si sono formate nei vari millenni attraverso questo sentiero, ci sono dei giochi a terra, delle strutture dove si impara, si conosce la genesi delle Dolomiti. E in più, dico da quel punto, da qui 2.550 metri di quota, un panorama a 360 che ti permette anche di vedere effettivamente le Dolomiti nelle sue varie sfaccettature. Certo, quindi vedere le Dolomiti dalla cima del Col Margherita, ma proprio rimanendo sulla cima del Col Margherita, c'è un'offerta molto particolare del rifugio in alto, il PROSAC. Non confondiamo con il PROSAC. No, questo è un nome dialettale fasano, sostanzialmente non altro che uno spuntino a sacco, che è il rifugio in alto, ricordo il rifugio comunque gestito da Alfio Ghezzi, chef stellato, uno spuntino a sacco chiaramente fatto di alta qualità, in modo che la famiglia, il turista singolo, possa prenotarlo, prenderlo e magari invece che mangiare al rifugio, fare una piccola passeggiata, perché ricordo che da lì andando verso la zona di Cimabocche si possono vedere ancora i residui, i reperti bellici, le trincee soprattutto, quindi oltre al panorama, quindi spostarsi un po', se vuole stare ancora più in tranquillità, in solitudine, relax e mangiarsi uno spuntino di alta qualità, e respirando anche l'aria buona, perché ricordo che lassù abbiamo una stazione del CNR, ormai da anni, e è certificato che l'aria che c'è a Colmargherita, la purezza di quell'area la troviamo ai poli, è un'area, voi per le correnti d'aria che ci sono, abbiamo questa fortuna di avere una qualità dell'aria veramente eccezionale, non lo diciamo noi, ma lo dice un istituto. Quindi sarà interessante, proprio qui abbiamo una qualità dell'aria chiaramente invidiabile, spesso magari diciamo, ce ne accorgiamo chiaramente, e lo percepiamo, però sapere questa cosa qua, arrivare a respirare quest'aria, ecco, magari pranzando con il Prozac, cenando, per la cena invece, ecco, una delle novità mi sembra che sia proprio al rifugio in alto, possibilità di fare qualche cena? A rifugio in alto da quest'anno offriamo la possibilità, gli ultimi due venerdì di luglio e tutti i venerdì di agosto, su prenotazione attraverso il portale sito web di in alto, o telefonando, si può prenotare questo, un aperitivo, quindi dalle 17.30, oppure addirittura un aperitivo con cena, che può terminare verso le 22, quindi godere del tramonto a 2.500 metri di quota, in relax, con dell'ottimo vino, perché va ricordata la cantina vini di in alto, sicuramente di alto livello, accompagnato comunque da spuntini o una cena stellata. Assolutamente, sempre soffrendo della funivia, per la sedia discesa, ok, quindi, su prenotazione, solo per gruppi, oppure se si ha anche una coppia, oppure 4 amici possibile? Anche per una coppia, assolutamente, anche una persona singola, una coppia, 4 persone, è la novità, quindi, nelle passate stagioni non era stato? No, ci crediamo, crediamo in questo rifugio, nella location, che comunque ogni volta che portiamo gente lassù rimangono sempre a bocca aperta, come un po' su tutte le Dolomiti, insomma, non vogliamo, però è un posto che merita e l'alba o il tramonto sono sempre i momenti unici che meritano comunque di essere vissuti, secondo noi, quindi per questo motivo abbiamo deciso, facciamo, diamo questa ulteriore offerta ai turisti, ma anche ai valigiani, perché no? Chiaro, certo, anche per noi, è qui comodo e vicino, anzi, siamo fortunati, diciamo, noi quando pensiamo a turisti magari fanno centinaia, sono migliaia di chilometri per arrivare da noi, invece, noi abbiamo qui comodamente, vicino casa. Senti Mirko, andiamo un po' con lo sguardo alla stagione invernale, che è un po' il centro della vostra, diciamo così, lavoro per garantire la preparazione delle piste, credo sia più complesso rispetto alla stagione estiva, state già lavorando, per quest'anno mi pare che non ci siano in previsione le gare Coppa del Mondo dopo lo sfortunato fine settimana di quest'anno, dove erano previste le due gare, che poi per le note condizioni non è stato possibile effettuare, state già lavorando, quindi per l'inverno ci puoi dare qualche anticipazione su cosa state facendo? Sì, assolutamente, ci stiamo lavorando, anzi, siamo proprio, come si dice, pancia a terra lavorando per la prossima stagione invernale, quindi una gran quantità di cantieri in questo momento, stiamo potenziando in maniera importante l'innevamento programmato, con la posa di circa 3 km di condotte, in modo da poter innevare eventualmente più rapidamente tutta la schiara, perché comunque l'obiettivo delle società è comunque garantire un'apertura il più possibile completa fin da inizio stagione, perché è questo che dobbiamo dare ai nostri clienti, ai nostri sciatori, quindi chiaro, se le nevicate arrivano siamo ben contenti, però dobbiamo comunque, un minimo di manto nevoso artificiale dobbiamo comunque farlo per garantire comunque anche tutta la stagione, quindi l'innevamento programmato non lo scopriamo quest'anno, ma è fondamentale e quindi le società stanno lavorando per questo, quindi potenziamento importante dell'innevamento programmato, miglioramento della pista Saline 4, quindi un allargamento e miglioramento dal punto di vista planimetrico e altimetrico di questa pista, nella zona di Falcade, la Saline 4, con un nuovo innevamento programmato anche questo, quindi sono due grossi cantieri, revisioni in atto di impianti, quindi l'impegno in questo momento, proprio in questi giorni è massimo, insomma, voglio ringraziare anche la provincia di Belluno, il servizio di impianti a fune e piste da sci, anche per appunto i progetti che abbiamo portato avanti e sono stati autorizzati, in primis anche la Saline 4, che ci hanno accompagnato nello sviluppo e nella reazione di questa pista, anche dal punto di vista paesaggistico, perché fare una pista non è solo pensarla dal punto di vista tecnico, ma anche inserirla in un contesto ambientale, quindi mi sento di ringraziarlo perché la collaborazione, il lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni con la provincia di Belluno è importante e si vedono anche i risultati, quindi sono un ringraziamento. Una nota Mirko sul vostro, credo poter dire, fiore all'occhiello al lato agonistico, la volata, questo inverno si confermerà protagonista se non delle gare di Coppa del Mondo, di Scialpino, di altri eventi o allenamenti importanti? Sì, hai detto bene, non ci sarà la Coppa del Mondo, quest'anno dopo, come hai detto tu, gli eventi un po' sfortunati della scorsa stagione invernale, anche se dico abbiamo comunque imparato tanto, perché comunque abbiamo preparato, siamo arrivati al 99% di quella pista di preparazione, poi è mancato il tempo, quindi non buttiamo via niente di quello che è stato il febbraio scorso. Non ci sarà la Coppa del Mondo, ci saranno comunque gli allenamenti, ci saranno allenamenti delle squadre nazionali, maschili e femminili impegnate in Coppa del Mondo, quindi la volata si conferma una pista da gara apprezzata sia per la tipologia di tracciato, ma anche per diciamo l'offerta che diamo agli atleti lì a Col Margherita, perché comunque è un ritorno costante, vuol dire che stiamo lavorando bene ogni anno e diamo un buon servizio. Bene. Non ci sarà la Coppa del Mondo, ma diciamo di Scialpino, ma ci sarà lo ski cross nella zona di Costa Bella a metà febbraio, quindi appuntamento importante sicuramente anche quello. Di disciplina e rapida scelta. Siamo sempre sul pezzo, oltre a comunque legare degli atleti giovani che poi o prima o poi andranno sul palcoscenico. Mirko, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ti ringraziamo molto quindi da questo fine settimana, impianti risalita fruibili anche nella zona di Falcade, allora auguriamo una buona stagione a te e a tutti gli amici della schiera da San Pellegrino. Grazie a Mirko Tancon. Grazie Claudio, grazie a tutti. E a voi tutti l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione di Dolomiti Turismo. Grazie a tutti.